Un'unità mobile, un monitor, una telecamera. Sembra semplice questo strumento che in realtà ha una sofisticata apparecchiatura di diagnostica utilizzata dagli oculisti per individuare anomalie della vascolarizzazione della retina negli occhi dei bambini prematuri. La retinopatia della prematura è una delle principali cause di cecità infantile. Lo sanno bene gli operatori del reparto di oculistica dell'ospedale di Camposampiero dove la RETCAM3, questo il nome del macchinario, è già entrata in funzione. Una problematica destinata ad ampliarsi, visto che si riescono a salvare anche piccoli nati in 22-23 settimane di gestazione. L'intervento tempestivo con il laser è fondamentale. A Camposampiero adesso arriva uno strumento in più costato 120.000 euro, frutto della generosità della raccolta fondi promossa dall'Associazione Retina Veneto.